La telepelle è una delle industrie più importanti e più tradizionali della città di Hanin. Con lo sviluppo di circa 20 anni, a Hanin si è già formata una catena dell'industria di pelle molto completa che integra il design, la produzione, la lavorazione, la ventica e la fornitura di tutti i materiali relativi. Hanin viene chiamata come la capitale della tele in Cina. Vorrei continuare a consolidare e migliorare l'industria della pelle. Hanin vorrebbe avere più collaborazione con il design del mondo internazionale per sviluppare un'industria in un livello più alto e per diventare una cultura capitale della moda.